La coscienza, vorrei sapere che è questa coscienza, che spesso ha già sentito il nome, quindi spero di fare la conoscenza, spiegatemi che cosa significa. Ha già spiegato una maestra di scuola, che è in scuola, l'università. Marito e figlio mio, questa parola si usava sì, ma tanto tempo fa, ora la coscienza si è disintegrata, poco sono rimasti chi di là che questa parola resta attaccata, campando con onore e dignità. Ora c'è l'assegno vuoto, il peculato, la gandialetta, queste cose qua. Marito, ce ne stanno attunnellate, di tutte le specie, di tutte le qualità. Ma l'oglio ho fatto con sapone piazza, il burro, il mucca, la pasta, il pane e la carne. Così pazzi, siamo andati alla mortalità. Io mi ricordo poco che l'hanno fatto, l'hanno imbriacato e pure che lì lì lì. Si suonano i sciroppi, ma d'accordo, ringrazio a Dio che si segue dal campo. E che ne posso ricercarti famiglie? Che la pelle in colla fanno a capo una marita, moglie, mamma, sorella, figlio. E fammi stare sentito, non mi fanno parlare. Perciò mi ha detto a sto maestro di scuola, ma sta pensate, chi l'ha fatto fa? Grazie. Grazie.